Entusiasta della New Basket Agropoli, l'ex sindaco Franco Alfieri è oggi sindaco di Capaccio Pestum. Plaude il lavoro svolto fino ad ora dai ragazzi e dal coach Franco Lepre che hanno approdato alle Final Four, alla società che ha creduto nei giovani locali, guidata eccezionalmente da Angelo Farese. Stiamo lavorando, ha detto, per un'unica squadra di basket, nelle sfere geodediche che saranno rimontate nella città dei Templi, sottolinea Alfieri, è prevista la realizzazione di due palazzetti dello sport. Vogliamo superare un po' questi steccati e a volte gli steccati sportivi hanno causato anche steccati politici e quindi vogliamo abbattere prima quelli sportivi. Stiamo lavorando per un'unica squadra di basket che vedrà qui sempre i campionati maschili e i femminili a Capaccio dove stiamo rimontando le due sfere geodetiche, quindi avremo due palazzetti anche lì per il basket e per la palla a volo, quindi ci stiamo lavorando. Abbiamo anche immaginato un luco che vede il delfino con qualche simbolo anche della città dei Templi, ci stiamo lavorando e credo che quando sapete che io penso e lavoro a delle cose poi le cose accadono.